Una città sostenibile a misura di bambino ha fatto tappa a Napoli, sul lungomare Caracciolo, la festa nazionale del gioco itinerante Ludo Bussi. È un evento che l'associazione Ali per giocare promuove sin dalla sua fondazione, 18 anni compiuti proprio quest'anno, con l'obiettivo di far riscoprire attraverso il gioco il piacere di stare insieme, ampliando il repertorio ludico dei più piccoli e stimolando le loro capacità. La mattinata piovosa non ha fermato i ludobus colorati provenienti da tutto il paese e con a bordo esperienze di gioco per ogni età. I nostri furgoni portano il gioco in città, in situazioni qualsiasi, dalla grande città ai piccoli paesini, quindi lo scopo è quello di far giocare i bambini e far giocare la città con giochi semplici, fatti a mano generalmente, molto fruibili da tutti semplicemente. Come associazione nazionale dei ludobus e delle ludoteche Ali per giocare compiamo 18 anni e approfittiamo per una grande festa a Napoli con il progetto Una città per giocare che ha finanziato Ludo Bussi oggi sul lungomare. Ieri abbiamo svolto 10 workshop cittadini e abbiamo festeggiato al PAN con tutti gli operatori della città. Organizzata dal Comune con il Centro di Cultura Ludica Mela Gioco della cooperativa sociale Progetto Uomo, l'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Una città per giocare dell'assessorato al welfare per promuovere in città l'importanza del gioco ed il suo valore educativo. Oggi qui sono arrivati ludobus da tutta Italia per dimostrare che nel nostro paese è possibile, rispettando anche le differenze dei contesti e dei territori, realizzare una vera cultura a favore dei bambini e degli adolescenti. Quindi una cultura del gioco che non significa soltanto gioco rivolto ai bambini, ma un gioco che ha la base della relazione fra adulti e bambini, che possa valorizzare gli spazi, che possa valorizzare la città e quindi creare anche quelle basi per la prevenzione anche di problemi che spesso noi lo vediamo nel nostro contesto territoriale e che spesso sono frutto anche di una mancata relazione, un mancato rapporto fra adulti e bambini.